Idea Web TV con Martina Bordignon alla fine di questa vittoria contro Martignacco, la prima che giocate in caso della pool promozione, ma è già la seconda vittoria di questa pool. Quindi una scia positiva, come l'avete presa questa vittoria? Sicuramente sono tre punti guadagnatissimi, siamo super contente perché loro comunque sono una squadra che dà fastidio, perché ci sono dei giocatori molto importanti e difendono un sacco, quindi comunque per tutte le squadre che ci sono nel girone del pool promozione sicuramente è uno scontro in cui si fa fatica, quindi siamo assolutamente contentissime di aver portato a casa questi tre punti. È stata una bella sfida, in molte occasioni siete rimaste molto a contatto con le avversarie, però alla fine le avete portate a casa nonostante un piccolo infortunio di Silvia Agostino che è dovuto uscire e è stata seguita da Timona. Sì, per fortuna abbiamo un secondo libero che secondo me può essere all'altezza di Silvia e ha dimostrato di saper tenere il campo e sicuramente ci ha dato una grossa mano quando Silvia è uscita. Sono molto contenta perché questa squadra secondo me ha bisogno di tutte, di tutte e 12 le giocatrici e quindi sono felice così. Grazie. Grazie, ciao ciao.